Benvenuti su meteogiuliacci.it. Dopodomani, domenica 26 agosto, ci attende proprio il giorno della svolta perché entra la perturbazione che sarà responsabile del refrigerio che ci porterà i temporali soprattutto sulle regioni del nord e in misura più attenuata anche al centro. Questa perturbazione poi nella giornata di lunedì si allontanerà dall'Italia ma le correnti fresche di Maestrale raggiungeranno anche le regioni del sud portando anche qui il tanto sospirato refrigerio. Andiamo a vedere l'immagine del satellite virtuale. Vedete la traccia della perturbazione che proprio interessa le regioni centro-sottentrionali e che appunto porterà i temporali ed il calo termico. Andiamo a vedere il tempo per la giornata di domenica. In questa mappa abbiamo un po' focalizzato il momento più critico della giornata. Non pensiamo quindi a temporali così diffusi dalla mattina alla sera però teniamo conto che proprio sulle regioni di nord-est e su parte delle regioni centrali saranno qui le zone in cui la probabilità di avere i fenomeni temporali sarà maggiore. Soprattutto fenomeni anche di forte intensità interesseranno il Trentino, il Veneto, poi nel pomeriggio anche l'Emilia Romagna. Saranno quindi fenomeni anche accompagnati da grandinate e da colpi di vento. Per quanto riguarda le temperature, queste saranno insensibili, calo al centro-nord, in torno ai 6-8 gradi in meno al nord e tra 2-5 gradi in meno al centro. Ancora un po' di caldo soltanto sulla Puglia, mentre sulle estreme regioni meridionali non avremo nessuna variazione. Vedete comunque al nord temperature al di sotto dei 30 gradi, mentre al centro valori compresi tra 31 e 32 gradi, soltanto la Puglia avrà valori tra 36 e 37 gradi. Termino qui, vi ringrazio per l'ascolto e ancora una buona giornata.